La tenuta delle piccole imprese del Materano, certificata dai dati Union Camere al terzo trimestre 2016 con un saldo positivo, conferma la necessità di sostegno al credito ed adeguati servizi di assistenza tecnica e consulenza per affrontare le turbulenze del mercato. E' quanto afferma il Vice Presidente del Consiglio regionale, Paolo Castelluccio, che sollecita la Giunta ad accelerare l'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico per liberare le risorse previste nel fondo dell'ex card carburante a favore dei sistemi d'impresa, riservando una quota del fondo al sistema produttivo in modo da ancoraggiare gli imprenditori. Il tutto può essere vanificato dagli ostacoli burocratici incontrati nei giorni scorsi per l'attivazione del reddito minimo di inserimento, conclude Castelluccio chiedendo che, attraverso un'efficace consultazione con le organizzazioni professionali e delle categorie interessate, vengano predisposti dei bandi con particolare attenzione ai programmi di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.